Codemotion Seconda giornata del Codemotion 2012, siamo qui con Silvio Porcellana di Mobisit, una giovanissima start-up Raccontaci un po' di cosa si occupa la tua start-up Intanto hai detto benissimo, giovanissima perché noi siamo online da circa 6 mesi dopo altri 3-4 mesi di sviluppo Quindi siamo veramente una start-up in erba Il nostro obiettivo principale è rendere possibile per piccoli e medi business realizzare un sito web mobile Un sito web ottimizzato per telefonini Noi crediamo moltissimo nella potenzialità e nello sviluppo futuro ma anche presente del mobile web Cioè del fatto che business locali, piccoli, possano godere molto del fatto di avere un sito accessibile da dispositivi mobili Quindi telefoni, smartphones, tablet E la nostra idea è proprio questa, cioè dar loro la possibilità di crearli in maniera veloce, facile e anche tutto sommato molto economica Quindi in effetti state cavalcando il fenomeno del momento, cioè la cosiddetta ricerca dell'identità mobile Ognuno di noi ormai vuole avere, quando si muove, la sua vita che lo segue Quindi con un telefonino, con uno smartphone vuole avere accesso ai suoi dati, alle sue applicazioni Quindi è questo lo spunto che vi ha portato a creare questa... Certamente, proprio partendo dall'idea che ormai il telefonino, lo smartphone è un appendice assolutamente immancabile per tutti noi Anche e soprattutto nei momenti in cui noi decidiamo che cosa comprare, dove andare o comunque dove spendere i nostri soldi Proprio per questo la nostra idea è stata rivolgerci a quei business, a quelle società, realtà, piccoli negozi Che difficilmente potrebbero avere accesso alla creazione di un'applicazione nativa perché richiede un budget più elevato O difficilmente hanno anche in casa le competenze per realizzare un sito web mobile ottimizzato per telefonini E proprio per questo vogliamo dar loro uno strumento che gli consente in maniera veloce e molto molto semplice e intuitiva Di realizzarlo per aumentare sostanzialmente il loro business online Dal punto di vista tecnico siete in grado di operare con tutti i browser? Sì, diciamo noi abbiamo posto i tre pilastri fondamentali su cui noi abbiamo deciso di basare la nostra startup Sono prima di tutto la semplicità di utilizzo E per questo abbiamo investito moltissime risorse per creare appunto un CMS E un'interfaccia utente che sia il più semplice e facile da usare La seconda è proprio questa, cioè la compatibilità massima con il maggior numero di device e di dispositivi presenti oggi sul mercato Chiaramente i nostri siti si vedono molto bene, hanno un aspetto seminattivo diciamo su iPhone, Android e smartphone di ultima generazione Ma diciamo che, come dire, la cartina di tornasole è un Nokia 5000 che noi abbiamo nei nostri uffici E su cui testiamo tutti i nostri e tutti i siti mobili che vengono realizzati con il nostro sistema Proprio per garantire una compatibilità L'SMA, interoperabilità Bravissima, esatto E questo anche perché, come dire, noi abbiamo una vocazione molto internazionale E uno dei mercati a cui noi ci rivolgiamo sono i paesi in via di sviluppo Dove ovviamente di iPhone ce ne sono pochi Mentre invece ci sono molti Nokia di 4-5 ma anche 10 anni fa Senti, invece la startup, di dove siete? Quanti ne siete? E come vi finanziate? Beh, guarda, la nostra startup è, come dire, veramente globale probabilmente Perché la startup è incorporata negli Stati Uniti, a Boston Io sono Di Asti, il fondatore e, diciamo, il creatore del back-end, insomma, del motore E invece il ragazzo che è qui con me, ma sei al nostro banchetto Il ragazzo che si è occupato della parte di front-end e di Catania Quindi, insomma, noi ci... Ed il Code Emotion 2012 è stata la prima occasione in cui noi ci siamo visti face-to-face E ciò nonostante abbiamo realizzato un prodotto, insomma, che comunque qualche... Quindi si è la dimostrazione pratica che grazie ai nuovi strumenti, alle nuove tecnologie Si può fare business anche a distanza Assolutamente, penso proprio di sempre Per il finanziamento invece siete autofinanziati? Sì, siamo totalmente autofinanziati Diciamo che questo è una cosa, come dire, su cui io ho voluto insistere molto Cioè l'idea di, da un lato, non ricercare sposmodicamente investimenti Un po' per poter avere forse un po' più le mani libere da un lato Dall'altro perché nella fase iniziale la mia attenzione e la nostra attenzione voleva essere Sul far crescere la start-up e non tanto sul cercare finanziamenti E poi perché questo ci obbliga a porre attenzione già da subito alle revenues Perché se non abbiamo quelle non riusciamo ad andare avanti E quindi una volta che avremo consolidato il business model, consolidato le fonti di reddito e di guadagno A quel punto probabilmente avremo anche un'altra forza e un altro, come dire, approccio alla ricerca di finanziamenti Silvio ti ringrazio, in bocca al lupo Grazie a voi